Michael Lovlevento 2020 L'alba della nuova età dell'oro, 18 luglio 2020 Traduzione marina Trasmissioni delle forze di luce Pleiadiane 712.020 Un messaggio speciale ai semi stellari della nuova Terra, per la diffusione planetaria immediata Preludio Le seguenti informazioni sono derivate da trasmissioni eteriche dirette, decodificate da benevole forze di luce ancorate nel sistema solare della Terra E alcuni dei dati provengono direttamente ad alcuni membri dell'alleanza della Terra Conosciuti come Cappelli Bianchi, e la Grande Fratellanza Bianca, strategicamente piazzata in posizioni chiave di potere dai galattici sulla superficie del pianeta Terra Questo messaggio speciale comprende anche dati da numerosi tra i migliori astrologi mondiali, che lavorano a stretto contatto con l'alleanza della Terra Nota, questo è un lungo flusso di dati, quindi prendetevi tempo e semmai rileggetelo di nuovo più tardi per assorbirlo pienamente Inizia la trasmissione Saluti grandi esseri di luce Numerosi giorni terrestri fa L'alleanza della Terra ha ricevuto una grande quantità di dati eterici dalle benevole forze di luce che stazionano nel sistema solare terrestre Questo flusso di dati akashici codificati ha impiegato quasi 200 ore per essere completamente decodificato e contiene molte informazioni importanti ed eccitanti per i semi stellari del pianeta Terra I dati akashici sono molto precisi ed esistono oltre il tempo e lo spazio La coscienza che decodifica questo flusso di dati specifici è stata riportata ad antichi giorni, quando i primi lemuriani giunsero sulla Terra ed è stata guidata dai dati fino alla fine del corrente anno terrestre 2020 Tutti i dati di questa trasmissione, così come altre trasmissioni recenti, puntano ad un evento importante, imminente ed evolutivo che sta per verificarsi sul pianeta Terra Questo flusso di dati contiene anche un indicatore della data e dell'ora chiave della Terra per tale evento 21 dicembre 2020, ore 11 e 11 UTC, per l'Italia le 13 e 11 L'anno terrestre 2020 è già stato un anno di potente trasformazione, evoluzione e rivoluzione mentre il grande risveglio attraversa il pianeta colpendone tutti gli esseri senzienti Tutto sta cambiando e muovendosi drammaticamente all'interno degli esseri della Terra e tutti i sistemi sul pianeta stanno subendo un grande cambiamento mentre la Terra ora viene bombardata costantemente dai raggi cosmici altamente caricati che provengono dal nucleo galattico Il nucleo galattico, conosciuto dagli antichi come il Sole Centrale è situato al centro della galassia della Via Lattea della Terra nella costellazione del Sagittario, S.G.R.A. Il potente buco nero situato lì, ha recentemente mostrato una maggiore attività ciclica di espulsione di massa già sta facendo sì che tutto in questo cosmo vibri più in alto Il Sole Centrale sta permeando questo sistema solare e il pianeta Terra con particelle esotiche ad alta frequenza, luce gamma fotonica al plasma, su base fissa ora e mentre questi potenti raggi gamma 5D in arrivo colpiscono e penetrano nell'atmosfera terrestre stanno influenzando tutti gli esseri della Terra, in maniera profonda, mentalmente, emotivamente e fisicamente Le esplosioni di questi raggi cosmici ad alta vibrazione, che arrivano sulla Terra, sono stati misurati dalla risonanza Schumann della Terra a vibrare in un intervallo di 40 a 100 Hz Lo stato di coscienza gamma, beatitudine e abilità sovrumane, risuona tra i 40 a 100 Hz Il limite inferiore della 5D inizia esattamente a 40 Hz e il limite superiore finisce esattamente a 100 Hz Una dimensione non è un luogo, ma uno stato dell'essere o della coscienza che può manifestarsi, e si manifesterà, come una realtà percepita Questa nuova più elevata dimensione della realtà, che si sta manifestando sul pianeta, è quella che chiamiamo la nuova Terra e il nuovo cielo È la tanto attesa età dell'oro e una nuova era di luce per l'umanità Il culmine dell'evento 2020 è il grande momento evolutivo chiamato Ascensione Quando l'umanità si trasforma completamente in questo bellissimo nuovo mondo celeste, proprio qui sulla Terra I dati contenuti in questa trasmissione, e molte passate trasmissioni dirette, indicano in ogni modo che questo culmine spettacolare dell'evento 2020 accadrà Accadrà solo in pochi mesi terrestri, il 21 dicembre 2020 Questo è il tempo di cui parlarono i molti antichi profeti e visionari, di quando l'umanità avrebbe iniziato a passare dal lungo periodo delle tenebre alla cecante nuova luce dell'età dell'oro Ritorno alla Lemuria in tempi antichi, i lemuriani vennero sul pianeta Terra attraverso il portale solare, inizialmente in corpi eterici, non fisici Questi esseri eterici iniziarono a respirare il cibo pranico della densa atmosfera del pianeta e, subito dopo, iniziarono ad ingerire frutta, semi, noci ed altri cibi naturali e energetici della Terra e, alla fine, svilupparono corpi fisici Questi viaggiatori dello spazio celeste si stabilirono nei monasteri e nei tempi hawaiin lemuriani, dove meditavano quotidianamente Lavoravano nei loro laboratori avanzati e registravano ogni dettaglio del loro viaggio cosmico verso il pianeta Terra, sia nei registri akashici che nei manoscritti Questi manoscritti lemuriani furono attentamente custoditi e tramandati alla grande fratellanza bianca, di generazione in generazione, ed esistono ancora oggi Si dice che chiunque guardi con cuore sincero ai preziosi rotoli lemuriani, sperimenterà un profondo mescolamento di antiche memorie E quando i dati akashici lemuriani cominciano a riversarsi nell'anima, inizia subito un grande risveglio dentro colui che cerca la conoscenza divina Colui che acquisisce questa antica conoscenza non può negare il suo potere divino e autentico Molti di noi ricordano chiaramente questo tempo antico, perché siamo questi stessi esseri che arrivarono per primi sul pianeta Terra I ricordi sono memorizzati nelle nostre cellule e i nostri ricordi lemuriani vengono attivati sempre di più ora Mentre questa nuova luce celestiale entra nel nostro organismo stratificato I creatori dei rotoli lemuriani concentrarono una larga parte dei loro insegnamenti sull'importanza del sole centrale Il sole centrale fu tutto per quegli esseri avanzati e, mentre le informazioni entreranno in voi, diventerà la cosa più importante anche per voi I lemuriani fanno riferimento al sole centrale come alla fonte di tutta la vita, tutta la conoscenza, tutta la potenza, il dio di tutti gli dei e lo Shiva Il sole centrale è il sole nascosto, il sole interno è la fonte di tutti gli esseri ed è la forza opposta del sole terrestre Gli antichi scritti lemuriani parlano di cicli cosmici chiamati yuga, che sono epoche di tempo misurate sulla base della rotazione del sistema solare della Terra attorno al sole centrale C'è molto dibattito e ipotesi, nel mondo 3D, su quando il Kali yuga dell'oscurità finirà e il Satya yuga della luce apparirà di nuovo sulla Terra Anche tra gli studiosi hindù, gli antichi manoscritti lemuriani riportano i veri dati sull'era yuga Per quanto riguarda il sole centrale che è completamente nascosto da una visione dimensionale inferiore I dati corretti sono memorizzati solo nei registri a cascici lemuriani, eterici, di quinta dimensione La piena comprensione dei calcoli del vero tempo degli anni divini, degli anni celesti e anche degli anni umani, molto distorti, è molto diversa se decodificata da questa dimensione superiore Vi diciamo, non perdete tempo a tentare di studiare questo da un punto di vista 3D Perché è una questione di quinta dimensione e questi dati, semplicemente, non possono essere decodificati correttamente in tutto il livello 3D L'antica grande fratellanza bianca e i custodi del tempo hanno una direzione Il Kali yuga è per gli ipocriti e gli sciocchi, che ci vivono sempre La saggezza e la verità risiedono eternamente nel Satya yuga Il Satya yuga non inizierà nel 2024, 2025, o persino tra 400.000 anni da ora Come alcuni studiosi 3D dicono, non è così Assolutamente non conoscono con esattezza quando questi cicli cominciarono e finirono, in tutte le ere, e la maggior parte di loro stanno tirando a indovinare selvaggiamente, sbagliando su quando Satya yuga di luce apparirà La trasmissione più recente delle forze di luce, ricevuta dall'alleanza della Terra, mostra che il Kali yuga di tenebra è già finito e il Satya yuga dell'età dell'oro coincide esattamente con la nuova età acquariana Che arriverà il 21 dicembre 2020 Siete vicini al vero tempo quando guardate il sistema del tempo Maya Il calendario Maya a lungo conteggio del tempo e i 5 gradi sole sono terminati il 21 dicembre 2012 Il 6 gradi sole Maya, la nuova Terra, sono cominciati all'alba di quel giorno Nel calendario Hindu, Lemuriano, anche lo scuro Kali yuga è arrivato alla fine quasi nella stessa data Il 21 dicembre 2012, la luce del Satya yuga Hindu iniziò all'alba Anche se la luce cosmica del Satya yuga, apparsa quel giorno, costruì potere sulla superficie del pianeta, fu oscurata entrando completamente nella Terra Un motivo per cui questa luce fu oscurata è stato perché Giove e Plutone la bloccarono fino a questo punto E siamo sicuri che vi rendete conto che ci sono stati grandi sforzi fatti da esseri malvagi per bloccare questi raggi solari dal raggiungere La superficie, anche recentemente, a causa degli allineamenti cosmici del 2020, e particolarmente quelli di dicembre La luce solare centrale del glorioso Satya yuga dell'età dell'oro sarà in grado di brillare completamente sul pianeta Terra il 21 dicembre 2020 I cancelli cosmici saranno aperti completamente quel giorno e il flusso più potente, inarrestabile e accecante di luce gamma a 40 Hz della storia, esploderà attraverso i cieli e fluirà nel pianeta A questo punto vogliamo attivare un'importante, antica, memoria Vi ricordate di aver guardato attraverso i buchi di pietra Stonehenge e in altri templi di pietra e osservatori che costruiste, nel momento esatto in cui questa luce cecante apparve in passato? Ora vedete perché faceste tutto questo? I Lemuriani per primi arrivarono sul pianeta Terra durante l'età dell'oro del Satya yuga, quando la Terra era più vicina al sole centrale Durante il Satya yuga il pianeta esisteva nelle sue dimensioni più elevate I Lemuriani sulla Terra, durante l'era del Satya yuga, esistevano in uno stato di coscienza superilluminato e la loro Kundalini era pienamente sviluppata Questi esseri maestri possedevano abilità supernaturali, divine, come essere in grado di volare, l'immortalità, il viaggio nel tempo e il teletrasporto Nei manoscritti è riportato che il Sole centrale è l'unica fonte di tutte le abilità sopranaturali, così come la sorgente di tutta la vita, tutta la materia e tutta l'evoluzione in questo intero cosmo All'inizio, la Terra esisteva già nelle dimensioni più elevate ed essa poi discese in uno stato di oscurità mentre si allontanava dal nucleo galattico Sole centrale Tornerà ad ascendere nei più alti regni di luce e gli esseri che oggi stanno vivendo sul pianeta presto ascenderanno con la Terra Ritornando alla Terra, nel 2020 il pianeta Terra si sta ancora una volta muovendo fuori dall'area oscura della galassia e sta già ritornando nella luce del Sole centrale È per questo che la risonanza Schumann, ogni pochi giorni, arriva al picco 5 di 40 Hz Non c'è alcuna significativa attività solare in atto che possa causare questo e non ci sono eventi sulla Terra che spingeranno la risonanza Schumann a un livello sostenuto di 40 Hz L'alta energia vibrazionale, che si è manifestata in tutto il pianeta, non proviene dal Sole o da altri corpi planetari e non viene dalla Terra Questa energia ad alta frequenza che stiamo vedendo e sperimentando sta venendo dal nucleo galattico Sole centrale Livelli elevati di luce gamma stanno entrando nel sistema corporeo stratificato di tutti gli esseri della Terra e, in questo cosmo, la scienza e la biologia hanno dimostrato, qualche tempo fa Che la luce gamma riprogramma e aggiorna il DNA e lo fa più velocemente di qualsiasi altra cosa conosciuta In effetti, un laser gamma può trasformare un embrione di una specie in una specie totalmente diversa in 48 ore Com'è per un aggiornamento veloce del DNA? La scienza della Terra della Russia ha già ottenuto il successo con l'esperimento di trasferimento e ricodifica del DNA E sebbene questa scienza sia ancora considerata marginale e con molte implicazioni, può essere ora fatta bene sul pianeta Terra Mentre i raggi gamma in arrivo dal Sole centrale 5D, nel nucleo galattico, bombardano il DNA dell'ospite umano Sia i semi stellari che gli umani del pianeta Terra stanno attualmente modificandosi in una razza divina Dove a breve possederanno 12 filamenti di DNA attivi Più filamenti di DNA sono attivi e più è alto il livello di coscienza Il grande Stargate Giove Plutone 2020 recentemente è stato aperto un potente Stargate Giove Plutone Che sta consentendo a molti livelli superiori di raggi di luce del Sole centrale di entrare per la prima volta sulla Terra d'Aioni Questo Stargate Giove Plutone 2020 è parte di una serie di numerosi eventi chiave celesti che si verificano ciclicamente Portando il pianeta ad un grande apice energetico Questo incredibile allineamento celeste del 2020 è il segno celeste tanto atteso della completa liberazione del pianeta Terra La grande ascensione evolutiva dell'umanità e la nuova era di luce dorata di luce I pianeti e le stelle stanno attualmente cambiando posizione in modo accentuato E la marcia sta portando a qualcosa di veramente grande che accadrà in un grande momento Corrisponde al momento esatto di questo momento Con la fine e l'inizio dei principali cicli temporali e evolutivi universali avete qualcosa di colossale Gli eventi celesti che avvengono nel nostro tempo moderno fanno parte di un grande processo cosmico che si sta costruendo fino al picco E iniziato nel 2012 Ha raggiunto il suo punto intermedio del 2016 e terminerà con un grande spettacolo alla fine dell'anno 2020 Principali eventi celesti del 2020 in primo piano Fino al grande allineamento del 21 dicembre 2020 Una rara tripla congiunzione di 3000 anni In una congiunzione Saturno-Plutone di 13 anni Una congiunzione Giove-Plutone di 13 anni L'eclissi solare anulare che capita che cada esattamente lo stesso giorno del solstizio estivo Una grande congiunzione Giove-Saturno di 20 anni Che cade nel più significativo giorno solare dell'anno Il solstizio di dicembre Il fatto che questi allineamenti, unici e potenti Avvengano nello stesso momento e coincidano con la fine e l'inizio dei principali cicli celesti È incredibilmente strabiliante e ha un potente significato sincronico A dir poco La serie di magnifici eventi celesti che stanno accadendo segnerà l'inizio di una nuova era di luce sul pianeta Terra Sappiamo cosa ci aspetta da ciò che sentiamo e vediamo dentro Usando il nostro intuito Sappiamo che cosa sta arrivando mentre lo leggiamo sottilmente dai flussi di dati akashici Sappiamo che cosa sta arrivando ricordando il nostro passato e vedendo il futuro all'interno di noi stessi Sappiamo che cosa sta arrivando grazie a ciò che gli allineamenti del cosmo ci dicono È tutto scritto chiaramente come segni nei cieli I cicli galattici del passato, del presente e del futuro mostrano cosa è successo, cosa sta succedendo e cosa succederà di sicuro nuovamente Comprendere e conoscere questo è il motivo per cui tutte le antiche razze progredite della Terra si concentrarono così tanto sulle stelle L'evento evolutivo che sta arrivando è imminente ora e potrà accadere solo quando gli eventi celesti sono allineati come sono ora Per creare abbastanza energia cosmica per un cambiamento epocale Questi eventi celesti sono leggibili, misurabili e prevedibili Quello che succede sopra, succede sotto Non c'è nulla di nuovo sotto il Sole, e quello che fusara di nuovo Siamo già stati qui Gli allineamenti celesti hanno un effetto diretto sull'evoluzione umana e sul pianeta Terra Se un evento celeste è abbastanza insignificante non ha molta influenza sull'umanità e sul pianeta Tuttavia, più grande è l'evento celeste, più grande è l'impatto cosciente e fisico che l'umanità e il pianeta sperimentano Quando accaddero potenti eventi celesti nel passato della Terra, accaddero grandi eventi sul pianeta Le prove lasciate da queste grandi epoche planetarie, e i cambiamenti del passato, sono impressi in tutto il pianeta Terra Anche in passato, quando i cicli cosmici sono cambiati passando da uno Yuga a un altro I corpi celesti si allinearono in posizioni simili a quelle attuali E questo è il momento in cui il più profondo cambiamento evolutivo è avvenuto sulla Terra Ecco alcuni eventi principali successi nel passato della Terra, durante un cambio del ciclo cosmico Distruzione di Tiamat l'inizio e la fine dell'era glaciale Estinzione di specie preistoriche La venuta degli Anunnaki Il grande diluvio Grande separazione della singola Terra globale originale Pangea Drammatico aumento e riduzione delle dimensioni di ogni cosa su tutto il pianeta Drammatico aumento e riduzione dei livelli di coscienza umana Tra le passate razze della Terra Il primo umano moderno creato L'inizio e la fine delle civiltà L'Emuriana ed Atlantidea l'inizio e la fine delle razze costruttrici di Megaliti La scomparsa della cultura mai alla partenza pleiadiana dalla Terra Tutti questi eventi accaddero nella preistoria della Terra e sono tutti successi esattamente Quando un'età è cambiata in una nuova E questi eventi sono stati tutti preceduti da allineamenti celesti potenti e rari Riusciti a leggere le foglie del T? Siamo di nuovo qui Grandi Il grande flash solare In coincidenza con i principali cicli cosmici che finiscono e iniziano proprio ora In aggiunta agli allineamenti celesti e agli stargate che si stanno aprendo È il fatto che il nostro Sole sta per avere il suo grande lampo Che accade ogni 25.920 anni In quello che è conosciuto come il grande ciclo Questo flash è stato conosciuto da quasi ogni antica civiltà nella storia registrata È stato scritto con nomi come Fuoco di San Vartaca, Frasciachereti, Eqpirosis e Yuga del Fuoco I dati di tutte le trasmissioni recenti dell'Alleanza della Terra mostrano che questo grande flash solare è imminente E tutti i segni e i dati sottolineano il fatto che questo evento si verificherà anche prima della fine dell'anno terrestre 2020 Alcuni membri dell'Alleanza della Terra conoscono la certezza di questo evento solare E confermano che il nostro sistema solare sta passando attraverso un'area estremamente densa di energia della galassia a quest'ora E le particelle esotiche contenute in questo campo cosmico di plasma Stanno caricando il nucleo galattico Come un supercondensatore gigante che presto si scaricherà come un evento di luce epico e cosmico Che sarà visto da tutti gli esseri sulla superficie della Terra Il grande flash solare sarà un'enorme eruzione eccecante di luce gamma bianca 5D espulsa dal nucleo galattico Questo sarà visto dalla Terra e testimoniato come un secondo sole nel cielo L'energia rilasciata da questa emissione del sole centrale è conosciuta come la rottura della compressione Compression Breaktroug E innescherà l'evento della completa ascensione di massa della coscienza planetaria La luce di questa esplosione cosmica sarà così potente che illuminerà i cieli della Terra per un periodo di mille anni Questa divina luce dorata della nuova era che illuminerà il pianeta Terra durante il prossimo millennio Grandi, questo attuale drammatico cambiamento che stiamo sperimentando accelererà rapidamente durante il resto dell'anno 2020 E terminerà con una drammatica scena di chiusura Questa scena di chiusura è il culmine del grande evento 2020 Che tutti i dati dell'alleanza della Terra indicano che accadrà il 21 dicembre 2020 Oltre a tutti i marcatori di dati che abbiamo menzionato in questo importante messaggio Tutti indicanti lo stesso esatto tempo terrestre e lo stesso evento Ci sono molte altre aree della scienza e della spiritualità che forniscono prove verificabili e credibili Che l'età dell'oro dell'umanità è davvero imminente Qui ci sono alcuni esempi di queste prove L'innegabile luce gamma 5D, 40 Hz, impressa sul grafico di Schumann ogni pochi giorni L'incredibile, e ovvio, grande risveglio che sta attualmente accadendo sul pianeta I dati dei partecipanti all'ipnosi quantica che hanno affermato di essere stati realmente qui Durante la sessione ipnotica, durante gli eventi passati principali della Terra Laddove quando il grande lampo solare accadde in un tempo futuro Migliaia di antiche profezie, manoscritti e anche scritti moderni che parlano di questo grande tempo Molti medium, psichici e canali affidabili che hanno visto questo stesso evento accadere alla fine del 2020 Il 21 dicembre 2020, la nostra intera galassia passerà nella quinta dimensione Anche conosciuta come la nuova età dell'acquario e la sesta età dell'oro In questa giornata evolutiva, il pianeta Terra entrerà nell'età celeste del risveglio spirituale Le forze spirituali del Sole centrale cambieranno tutto questo regno in modi profondi e positivi Chi desidera vivere in armonia, condividere, prendersi cura, cooperare e lavorare con la natura La creatività e l'amore, formerà comunità spirituali e una civiltà interamente nuova e diversa La nuova era acquariana porta alla realizzazione dei nostri sé divini In questo, tutte le cose diventano possibili ed ha raggiunto uno stato di perfezione Abbiamo aspettato così a lungo e sopportato tante cose sul pianeta Terra Incarnandoci ripetutamente innumerevoli volte Solo per vedere la gloriosa apparizione della nuova età dell'oro Traduzione Marina Grazie a tutti